Tauria Nova dall'8 al 10 dicembre diventerà capitale del calcio dei Pulcini e Piccoli Amici perché la scuola calcio Sport Time di Tauria Nova organizzata dal mister Domenico Zito che tutti quanti conoscono e dal procuratore sportivo Mimmo Todoro ed altri organizzatori lo diciamo anche da Antonio Andreacchio a Perri e sono insieme in questo progetto con il Genova Calcio vediamo di capire come si svilupperà questa organizzazione che è abbastanza importante perché so che avete coinvolto un'intera piana di Gioia d'Aura e forse anche oltre dagli alberghi che avete impegnati al movimento che è stato creato in questa città è un fatto positivo intanto leggiamo le squadre e poi naturalmente con mister Zito cerchiamo di fare il punto specifico sull'iniziativa le squadre che parteciperanno sono l'Olimpia Torrione che è di Bitonto Bari il Sanniti Calcio che è di Campobasso, il Savuto Calcio che è di Cosenza il Circolo Crucitti di Reggio Calabria, la Monpensiere che è di Agrigento il Re Leone che è di Policoro Matera, il Novalba che è di Licata Agrigento New Iglas che è di Galattima Mertino Messina, il Sporting Cefelù di Palermo naturalmente a Torrianova tanta gente ma naturalmente grandi appassionati di sport e soprattutto una vetrina per i pulcini per farsi vedere da una grande squadra che è il Genova Calcio Sì, quest'anno la Sport Time di Torrianova, questa scuola calcio che è nata tanti anni fa ha fatto l'affiliazione con il Genoa Calcio Genoa che su questa situazione del settore giovanile è in grande espansione quest'anno ha voluto fare dei tornei in varie regioni e con le squadre tutte affiliate parteciperanno a questo evento ovviamente ludico dove i ragazzi la prima cosa che andranno a fare è quella di divertirsi e di confrontarsi ha scelto la nostra struttura perché la struttura della Sport Time del signor Rocco Perri ha la capacità di avere tre campi in erba sintetica coperti quindi loro sono stati attratti da questa struttura e hanno scelto questa sede per fare la prima manifestazione che si chiama Grifo Cup che come hai detto tu andrà in scena dall'8 al 10 dicembre parteciperanno tutte le squadre affiliate di tante zone dell'Italia e le categorie sono primi calci e pulcini quindi 8-10 anni i pulcini 6-8 anni i primi calci sarà ovviamente una manifestazione abbastanza importante perché ci sarà un seguito considera che abbiamo dovuto prenotare vari alberghi delle zone perché l'indotto con i genitori, con i parenti sarà molto grande quindi noi ci stiamo preparando nel migliore dei modi speriamo che tutto vada per il meglio è la prima cosa che i ragazzi si confrontano giocando e divertendosi in queste tre giornate Ecco allora 8-10 dicembre 2016 naturalmente oltre all'evento sportivo e tantissimi pulcini sono 2006 se non ricordiamo male Allora le date sono sì, la categoria pulcini sono 2006-2007 mentre la categoria primi calci sono i nati 2008-2009-2010 Perciò dal 2006 al 2010 sono bambini però che si metteranno in mostra appunto per la loro grande passione che è il calcio e naturalmente Tauria 9 diventerà centrale per due giorni e con tanta gente che verrà è anche un fatto economico molto importante per questa città Grazie a tutti! Grazie a tutti